Sarà trasmesso su Telequattro domenica alle 16 il dialogo tenutosi questo pomeriggio al centro pastorale Paolo VI tra l'arcivescovo Crepaldi e il rabbino Capo Meloni che nell'ambito della giornata di approfondimento del dialogo fra cattolici ed ebrei, giunto ormai alla 32esima edizione, hanno presentato il libro del Coelet, patrimonio biblico comune delle due religioni. Il dialogo su questi libri è importante, permette in risalto comunque la differenza di lettura che esiste e la differenza anche di approccio su certe tematiche che devono esistere e che sia giusto che esistano. Il testo propone anche una chiave di lettura in merito al periodo di pandemia in cui stiamo vivendo. Perché è un libro che ci invita a discernere bene in questa stagione dove molte cose sono destinate a terminare e molte altre sono destinate ad aprirsi, quindi che ci interroghiamo su quello che sta avvenendo alla luce di queste istanze che provengono dalla parola di Dio mi sembra molto importante. Il Coeletto offre anche l'opportunità di tenere presente che nelle situazioni di scoramento, fragilità e precarietà esistenziale ciò che offre speranza è la presenza della Torah, della parola di Dio che non abbandona il suo popolo. Il dialogo fra l'arcivesco e il rabbino è stato dunque anche un'occasione per non lasciarsi rubare la speranza.